...manifesterà anche attraverso canzoni durissime come Kill Your Sons, Family, My Old Man e Standing on the Ceremony. Alla fine del trattamento si convince che la sua personalità aveva subito una frammentazione in numerose altre che poteva richiamare a suo piacere. Aieti Psychiatrix scriverà in seguito in una delle sue migliori poesie. Idò ad esempio, che rispondeva, non c'è n'ho mai successo, dov'è non tolėd a nonare. Non at all.. But every time she put on radio, then there was nothing going down at all, not at all. One phone morning, she pulled to the New York station and she couldn't believe what she heard at all. Non at all.. Sfixiare la tentazione della musica Golden le cose per il rock'n'roll E di il rock'n'roll Spite all the ampurti Sfixiare la stagione 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 No No Spite of the amputation You could dance to a rock of station And it was alright And it was alright Yeah I 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